Da 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 Eeeh what's up a tutti ci sono e benvenuti da giocherini in questo nuovissimo e brevissimo video Perché sono qui ragazzi solamente per dirvi come vi avevo già detto che sarei tornata il 13 marzo Che sono tornata eeeh Wuhuuu siiii E magari ci sarà qualcuno di voi che invece è così Esti cazzi Ebbene si ragazzi sono tornata ieri sera qui a Valencia Quest'oggi purtroppo non caricherò video tipo gameplay eccetera Perché veramente ho un sacco di cose da fare in casa Quindi preferisco comunque farvi questo piccolo video in cui appunto vi dico che sono tornata Ma veramente giocherina E voglio in più spiegarvi ragazzi in due secondi più o meno Che cosa farò appunto in questi prossimi giorni Sicuramente so che devo continuare a finire la benerettissima serie su David Within Cercherò di farlo il prima possibile ragazzi come cercherò di continuare ovviamente Non cercherò come continuerò le altre serie che ho in sospeso Sarebbe a dire Finding Paradise e The Sims 4 Però ragazzi però fermiamoci in secondo perché credo che abbia l'assoluta precedenza L'episodio bonus di Life is Strange Before the Storm Ha enorme ma proprio gigantesca richiesta da parte di moltissimi di voi Per cui non vi preoccupate non so se domani o comunque dopo domani non credo perché purtroppo devo fare una cosa Comunque ragazzi domani o il prima possibile comincerò assolutamente questo bonus episode Quindi su questo state assolutamente tranquilli E per il resto ricomincerà tutto come sempre ragazzi Quindi caricherò non so se ogni giorno ci proverò Gameplay appunto sulle serie che stavo portando Che ho lasciato in sospeso per andare in Italia Quindi state assolutamente tranquilli ragazzi Tutto sta tornando alla normalità State assolutamente tranquilli ragazzi Perché sto per portarvi finalmente questo benedettissimo episodio bonus di Life is Strange Before the Storm E per il resto come sempre credo che tornerò ragazzi in live il giovedì, il venerdì e il sabato sera Dalle 20 e 30 più o meno in avanti Non ve ne do la certezza matematica al 100% Ma appunto quindi se volete ragazzi costanti aggiornamenti sui video, sulle live, sugli orari delle live magari eccetera eccetera Seguitemi sui social ragazzi Mi raccomando perché è importantissimo C'è Instagram, c'è Telegram che ultimamente sto usando molto di più Trovate ovviamente tutto in descrizione Vi ricordo che se volete ragazzi potete farmi delle donazioni O potete diventare anche i miei sponsor Quindi darmi una donazione al mese Trovate tutti i link sempre qua in descrizione E quindi nient'altro da aggiungere Giocherina finalmente è tornata Eeeh Finalmente porterà Life is Strange Eeeh Vabbè direi che può finire qua Ci vediamo i prossimi giorni ragazzi E ci aggiorniamo sui social Mi raccomando Grazie a tutti Un bacione E what's it a tutti ciurma Ragiocherina Ciao Me soccato Tantroppo Poi fa sto video NEEEEEEE NEEEEEEE Tantroppo